Apro questa discussione entrando su un'osservazione fatta in ricomando, giustamente ha aperto la Domus dei tappeti di pietra, il filmato della Domus dei tappeti di pietra. Io ho detto in maniera succinta, ma l'ho considerata eccezione. Il discorso è più articolato. Allora, io credo che ci sia un grosso scollamento, credo, almeno la mia interpretazione dell'archeologia che vedo va in questo senso. Fra le località, in precedenza Milano, poi Ravenna, che rappresentano capitali, dove risiede una corte, e tutto il resto del territorio. I comportamenti che noi vediamo a Ravenna, la Domus dei tappeti di pietra, il probabile palazzo di Tedorico all'esterno, le cosiddette residenze di caccia di Tedorico, Meldola, Palazzolo, eccetera, eccetera. Strutture nel sesto che sono ancora abbastanza monumentali. Però, intanto, c'è anche classe che si sta già insabbiando da un bel po' di tempo. Si sta stracchi di incendio, si abbandoni e via dicendo. Credo che quello sia un microcosmo diverso, dove, innanzitutto, il potere ha continuato a rappresentarsi in continuità. Anche Doare, come che avevi citato prima, va su Ravenna. Ravenna è la capitale. Nel senso, lì, gli aristocratici, gli eventuali proprietari che ancora sono in Italia, quelli che non sono rinserrati nel senato di Roma, sono rinserrati dentro Ravenna, qualcosa anche a Milano. Però, sono luoghi dove il potere si è riperpetuato, costruendo le sue strutture. Ma sono anche luoghi dove, riperpetuandosi il potere, sono anche scelti come sede della Corte. I comportamenti che ha l'altissima aristocrazia, cioè quella che gira intorno, in questo caso, che giravamo a Teodorico, e i comportamenti di quelli che producono il grano, che allevano gli animali, che serve anche per la nona, come dicevi prima, che troviamo nel territorio che guarda caso, c'è la coincidenza tra Fonte Scricca, Casso d'Oro e l'archeologia, la quantità di insediamenti con connotazione gota o di età gota che troviamo nel nord Italia, il comportamento di vita è nettamente diverso. Nel senso, in questo caso è un'eccezione, cioè sono altissime sfere e la comunanza della popolazione, altissime sfere che, con il collaborazionista Casso d'Oro, tendono anche a, voglio dire, è propaganda politica il messaggio che dà Teodorico, il rinnovo della romanità, il voler mandare l'insegne all'imperatore vuole una, come si dice, vuole una conferma, no? Una ufficializzazione del suo ruolo di patrizio o re d'Italia e di conseguenza tutta la legislazione che inizia a fare fanno parte in realtà di un disegno politico che non è incollato, non è parallelo alla realtà. Ti faccio un esempio, Enrico. Tra le prescrizioni, leggi di Sudorico c'è anche quello diretto al suo popolo dei gothi che gli impone di non seppellirsi più con i corredi, non solo di armi, ma con i corredi di oro, cioè vatti osaurizzato in loro, vai a scavare e vedi che questa prescrizione, questa legge, se ne sono ampiamente fregati. Comunque vedi due comportamenti diversi di vita a livello, le altissime elite, Iavering, l'avevo già fatto vedere, come in caso eccezionale, oppure Gudme, quello che ho fatto vedere io, sono eccezioni in questo senso, cioè sono comportamenti eccezionali che riguardano solo una piccolissima elite, quella di altissimo livello. Le altre, pazienza, si discute, le altre hanno comportamenti diversi, sono piccoli proprietari terrieri, se conosci bene il mio punto di vista io vedo una lunga gestazione delle elite rurali prima di arrivare ad affermarsi veramente, elite deboli, come furono definite una volta. Se ci fosse, virgolette, comportamento, chiuse virgolette, abbastanza, qui rifletto, lo dico mentre rifletto, diciamo che ci permette con segni chiari come tesoro di Domagnano, come la Domus dei tappeti di pietra di Ravenna o altre cose, di dire queste sono elite, quest'altra invece sono quelli che lavorano per l'elite, eccetera, dovrei trovare, magari poi spunteranno archeologicamente, dovrei trovare sul territorio tutta una serie di residenze strutturate in un certo modo, di consumi che vanno in una direzione e si aprono anche su mercati che io invece però non trovo, io trovo generalmente tutti questi contesti livellati dal punto di vista dell'abitare con differenziazioni che, ripeto, sono essenzialmente sui consumi da un punto di vista di gestione di chi produce e io accumulo, io mangio meglio e poi magari li metto anche su un mercato urbano. Questa cosa raggiunge una brevissima osservazione, sì, da Germania Est, sì, assolutamente. Quando, due anni fa, nelle conclusioni di Castelli Pietra, mi sono posto proprio questo interrogativo su questo V secolo, perché c'era quella rieoccupazione che potrebbe essere di età gota e, insomma, rileggendo un po' anche, ma sì, anche in questo caso i testi degli storici, perché no, viene fuori che c'è probabilmente, forse in età gota, forse prima, uno scollamento fra il mondo della produzione e il mondo della proprietà. Per cui, a un certo punto, non c'è più una rappresentazione diretta di questi rapporti. Cioè, io posso essere un villaggio che ha, da un punto di vista archeologico-materiale, una uguaglianza sostanziale e essere poi sottoposto, giuridicamente, amministrativamente, per la proprietà, a un proprietario che sta magari a grande distanza. Quindi, questo livellamento a me piace, nel senso che non confligge con la presenza di gerarchie sociali ed economiche che vengono anche da altre tipologie di fonti. Il trattato di Palladio, che descrive una compagna senza contadini, è forse la fotografia più chiara di un mondo della proprietà che sta tutto chiuso dentro il suo mondo. Poi, se tu, contadino che stai al di fuori di questo ambito, stai in un villaggio in pianura, stai in un villaggio in sommità, stai in una casa sparsa, stai in un abitato aggregato, c'hai la capanna grande o piccola, la ricostruisci a destra o a sinistra, a me interessa che alla fine dell'anno tu mi dai quella rendita. E questo mi basta. Una rendita su cui poi si può discutere, ma questo aprirebbe forse un altro seminario, sicuramente un altro seminario. Hanno scavato qualche anno fa un sito sulla costa di New England, del XVIII secolo, è un grande sito commerciale dove c'è merci da tutto il mondo e non c'è una moneta. E quindi io ora mi sto un po' ricredendo sulla equazione se non c'è moneta c'è una regressione totale anche di tutto quel mondo di scambi a vari livelli e se invece c'è moneta vuol dire che si comprano le cineserie. Credo che il lavoro che propone Frank sia interessante proprio anche in quanto come diceva anche Enrico, si va a ricostruire attraverso il dato archeologico quel commercio regionale, subregionale su cui io ci metterei anche la ceramica per quel poco che c'è. Ad esempio nella zona dove lavoro io c'è ceramica alto-laziale fino al X secolo. Dall'XI arrivano gli aldobrandieschi e portano ceramiche diverse. È un dato, si può discutere, ma c'è qualcosa. Ecco, io credo che si possa andare veramente a ricostruire una complessa rete di piccoli rapporti che forse non abbiamo analizzato nella giusta misura perché siamo stati tutti un po' vittime della sigillata africana o delle anfore, tutti a cercare fondamentalmente il macro-commercio. Ora per esempio, parlando anche con Emanuele Vaccaro compaiono tanti indicatori di produzioni anforiche con un bel punto interrogativo che potrebbero anche essere di aree dove la produzione anforica nell'età d'oro delle ville magari non c'è stata o non è documentata che aprirebbe tutto un enorme settore di indagine e che ci ricollegherebbe a tutte quelle ricerche che fanno in Europa sulle fiere stagionali che poi diventano, come quella di Saint-Denis dei punti di riferimento addirittura a livello europeo non tutto ovviamente, ma insomma ricordiamoci che in fondo secondo una linea interpretativa anche gli Emporia nascono nel VI secolo in questo quadro di spiaggiature di piccolo cabotaggio di merci di lusso ma non solo perché basta pensare alla ceramica prodotta nella zona renana a Mayen che produce una sigillata simile alla vernice nera nel III secolo, nel IV secolo nell'VIII e nel IX produce una ceramica di tipo diverso ma comunque è sempre una produzione ceramica che si ritrova, seppure in piccole quantità in tutti questi siti nell'area del mare del nord quindi credo che sarebbe interessante veramente cominciare ad aprire più livelli di indagini contemporaneamente perché questo del livellamento fisico della popolazione secondo me ormai è un dato abbastanza incontrovertibile il problema è che questo dato appunto non confligge con l'analisi di una articolazione sociale certamente più semplificata di quella più antica ma è tutta la società più semplificata nel mondo romano ci sono 16 termini nel codice di Giustinianeo per indicare chi produce l'argento in tutte le fonti alto medievali e occidentali ci sono 4 termini per indicare tutti quelli che lavorano i metalli, dall'oro al ferro è ovvio che c'è una semplice sono bizantini sono bizantini però ancora scrivevano in latino la grecizzazione avviene con la riforma dei temi sono bizantini dentro allora io stavo pensando proprio in questo momento che probabilmente invece la ricchezza che si muove su quattro gambe cioè i maiali, le pecore e i maiali e le pecore fondamentalmente è quella anzi che si sposta di più perché se ci sono delle infrastrutture che non sono mai decadute o comunque che hanno una continuità che si misura a volte sui millenni piuttosto che sui secoli è proprio la transumanza quindi direi che i greggi di maiali o di pecore o di altri animali ancora forse rappresentano, non dico una sostituzione del sistema monetario però una forma di circolazione della ricchezza anche su media e lunga scala l'altra cosa che volevo dire è attenzione a volte a non fare a non impostare dei paradigmi su dei luoghi che hanno una rilevanza militare o strategica perché soprattutto a partire dalla metà del quinto e poi nel sesto le fortezze, i castra, i castella e via dicendo sono quelli che naturalmente hanno più documentazione archeologica perché ci sono dei periodi di forte turbolenza e quindi poi assistiamo anche alla rifortificazione Anzedonia e gli ufficiali bizantini per esempio nel momento di in uno dei momenti più acuti della guerra gotica a un certo punto i bizantini ritengono sacrificabile Roma ma non centuncelle che infatti in quel periodo ha una straordinaria fioritura di iscrizioni alcune interessanti, anche barbariche, altre bizantine e anche degli indici di attestazione delle sigillate africane più alte però queste sono situazioni collegate a luoghi strategici che hanno una rilevanza strategica che sono eccezionali da vari punti di vista poi il contesto circostante man mano che ci si allontana è quello dell'appiattimento non lo so allora intanto la discussione ovviamente parte a macchia d'olio e non finisce più naturalmente ma questo fa parte del nostro mestiere sì non solo punti di vista ma il fatto che il passato è talmente complesso è chiaro una volta che tu hai deciso hai lanciato l'idea dell'archeologia globale chiamiamola così oppure che quando tu cominci a dire guarda del passato mi interessa tutto non mi interessano solamente le chiese non mi interessa solamente l'upper class lì ti sei già buttato di fatto nella impossibilità di conoscere nel senso che il passato dura tantissimo il VI secolo dura 100 anni devi coprire tutta l'Italia devi coprire tutte le tipologie non fai più in tempo nemmeno non solo a saperlo ma nemmeno a raccontartelo questo fa parte del nostro mestiere quindi diciamo il gioco che forse uno deve provare a fare è dire bene il passato è tremendamente complesso devo cercare di capire a partire da un singolo punto quali sono le idee le piccole e micro narrazioni che mi posso fare cioè caduta l'idea della grande narrazione per grande narrazione intendo quello che si intende convenzionalmente cioè la storia che racconta tutto cioè io mi invento una storia che spiega tutto è caduta l'idea delle grandi narrazioni è caduta diciamo con la seconda guerra mondiale con la peltina di innocenza dell'archeologia sono rimaste le micro narrazioni cioè tu stai di fronte a dei pezzetti di passato e devi cercare attraverso questi pezzetti di passato perché tutti quanti noi lo sappiamo che quando parliamo di campagne ci vengono i capelli dritti perché poi usiamo delle basi di dati che sono incongruenti così come quando parliamo di città a un certo punto tu hai detto la circolazione di ceramica a Roma ma la ceramica del VI secolo a Roma la conosciamo da tre contesti ed è Roma prima che abbiamo avuto un panorama credibile dei contesti di Roma ci vorrà un'altra sette o otto generazioni e forse il problema sarà superato si occuperanno di altro questo era il primo punto il secondo punto era che bisogna anche cercare un po' di di non legare necessariamente a una dimensione evolutiva monolineare l'evoluzione per esempio dei rapporti di produzione questa è una grande narrazione marxista ma noi siamo forse un po' un pellino più avanti e diciamo la vicenda della pianificazione delle campagne cioè dello spianamento delle campagne inizia Franco lo sa meglio di me in epoca tardo romana insomma inizia con con il passaggio dal sistema delle ville al sistema del colonato è lì che si spiana tutto tenete presente che quando mi sono sempre in mente questo passo perché l'ho scoperto molto di recente in realtà a me c'ero passato sopra un passo di Rutiglio Lamazziano che tutti conoscete perché racconta la fine di Populonia proprio Rutiglio dice un sacco di altre cose ma è rimasto agganciato a Populonia anche perché a Populonia ci scaviamo in molti e ci abbiamo scavato in molti e Rutiglio a un certo punto in un passo dice ma quando dice la Roma sta decadendo dice sì vabbè tutte queste case sono in rovina ma da qualche parte andremo a vivere alla peggio dormiremo nelle capanne dei pastori dei contadini e siamo nel 415 nel 417 le campagne dei contadini cioè i contadini vivono ma il concetto di casa la parola latina casa significa quella roba lì una capanna di contadini non molto diversamente quindi diciamo il gioco è un gioco molto complicato se cerchiamo di muoverlo fra le classi sociali per quanto riguarda il problema dell'elite lì forse è il gioco dove la differenza di complessità delle società è il punto in cui si vede meglio si vede meglio sulla base dei dati che abbiamo a disposizione sulla base delle fonti sulla base degli indicatori di status sulla base degli indicatori archeologici bruti quelli diffusi intendo dire e sta essenzialmente nella complessità dell'elite allora l'elite diciamo di matrice longobarda è un'elite nitida semplificata diciamo semplice nel senso che ci sono dei luoghi dentro cui si sviluppano delle aristocrazie deboli e il rapporto fra l'aristocrazia debole l'aristocrazia locale intendo dire e la centralità è quello che dicevi te magari dipendono da uno che sta a qualche decina o centinaio forse qualche decina di chilometri di distanza nel sistema statale bizantino per le regioni dove i bizantini governano la cosa è radicalmente diversa perché le rite sono direttamente correlate non a caso spesso sono all'octone e si muovono vanno e vengono dall'Oriente e c'è poi tutto un sistema di gestione di questa cosa che è molto chiaro basta leggere Gregorio Magno e si vede quanto sono grosse l'elite non solo in città in città ovviamente ma per esempio nelle campagne cioè ci sono spazi pesanti c'è quel libro famoso e bellissimo di Brown Gentlemen and Officers che racconta proprio questa storia cioè come siano strutturati tutti i lavori di Salvatore Cosentino sulla prosopografia dell'Italia bizantina di questi conosciamo migliaia di nomi non è che conosciamo 4 o 5 persone poi magari non sappiamo dargli il posto specifico nell'elite però quindi diciamo l'elite e anche i loro sistemi di rappresentazione è vero sono nelle città questo è evidente che sono nelle città perché quel mondo là ha bisogno delle città se no non funziona infatti va in crisi quando vanno in crisi le città o viceversa però sono le vediamo dappertutto non le vediamo solamente a Ravenna le vediamo dappertutto le vediamo a Pesaro le vediamo a Rimini le vediamo le vediamo dovunque cioè dovunque ci siamo agglomerato lì c'è un edith forte semmai il discrimine è dove c'è ancora una civiltà urbana e dove non c'è forse quello è proprio il grande discrimine cioè dove c'è una civiltà urbana dall'elite strutturata dove è decaduta la civiltà urbana infatti uno degli argomenti che dicevo si poteva uno dei punti di vista più rassicuranti è dire città sì città no allora a quel punto sei abbastanza tranquillo ma se invece ti muovi contemporaneamente su città e campagna il gioco diventa più complicato Marco le considerazioni che fa Enrico vanno bene io comunque credo che in questo mestiere o lo interpreto male o mi stavo insegnando male però io credo che una posizione interpretativa vada presa cioè va benissimo tutti i distinguo tutti i dubbi però credo che una posizione interpretativa almeno questo è stato l'insegnamento avuto dal mio maestro vada presa perché altrimenti il dibattito non va avanti c'è la paralisi della ricerca perché se si come si dice se si professa l'impossibilità di andare a ricostruire quadri diacronici più o meno esaustivi se si demanda alle prossime generazioni future il compito di interpretare i dati che noi censiamo produciamo perché noi abbiamo paura di non avere o temiamo di non avere gli strumenti o la capacità o che posso dire o su tutti gli strumenti a disposizione per farlo io credo non facciamo un servizio a le successive generazioni che arriveranno e non avranno paradigmi o modelli con cui confrontarsi Pirenna ha scritto una sintesi su dati assolutamente microscopici in confronto a quelli che abbiamo oggi tuttora questa sintesi è un termine di confronto quindi credo che ora parlo di un grande ma ne sono anche altri insomma scrittosi credo che modelli o paradigmi vadano presentati poi si discute o si integrano o si incrociano eccetera ma il mio mestiere sì sono un grezzo archeologo anche barbarista medievista però il mio mestiere è fare la storia e questo almeno io è uno dei pochi insegnamenti pochi che ho avuto il mio maestro però era questo esporci e fare storia adesso prendiamo la piega divertente insomma sono le quattro poi ce ne dobbiamo anche andare allora io come qualcuno di voi sa qualche anno fa ho scritto molti anni fa purtroppo ho scritto un libricino su Italia bizantina che era intitolato Le Italia bizantina che partiva da questo presupposto proviamo a dare un'interpretazione io vedevo delle cose che mi sembravano molto diverse fra loro aprivo degli articoli e dicevano A aprivo degli altri articoli dicevano B e ho detto proviamo a vedere perché dove sta la distinzione e mi sono permesso mi sono così buttato in mezzo e ho detto ragazzi secondo me c'è una variabile bizantina e potevo farlo avevo le cognizioni di causa per parlarne ne parlavo era il 1996 quando l'ho scritto come tesi di dottorato era il 98 quando è uscito ne parlavo allora non si parlava proprio se usavi la parola bizantini ti guardavano dicendo alcuni dicevano anche con quante z si scrive è un problema questo però allora diciamo quella roba lì allora l'interpretazione si deve dare e per credere di Dio io penso che l'interpretazione vada data sulla punta della traul come dice il mio maestro attuale Jan Odder penso però che noi dobbiamo fare anche tutto quel lavoro complicato che diciamo tutti quanti conosciamo del gioco continuo dell'uso delle fonti critiche e dell'uso della critica delle fonti che vuol dire un continuo processo per cui tu dici guarda io ho questa idea la metto lì e la sostengo continuo a pensare che quell'idea sia un'idea buona e oggi a distanza di 15 anni da quando ho scritto quel libro penso che quell'idea sia ancora un'idea buona dopodiché penso anche che di quell'idea buona una parte sia molto buona l'idea di fondo che esistano due Italie mi pare ancora oggi convincente è un po' quello che ci siamo detti oggi e penso che alcuni aspetti siano invece superati alcuni erano proprio totalmente sbagliati perché i libri invecchiano per carità devono essere superati io non penso che non bisogna fare interpretazione e non penso nemmeno che non bisogna fare bisogna però stare un po' attenti poi applicare la critica delle armi la critica delle armi qual è? è quella di dire oh ragazzi come direbbe Bersani ragazzi come l'abbiamo smacchiato questo giaguaro l'abbiamo smacchiato ma andiamo un po' a vedere come l'abbiamo smacchiato e allora per esempio alcune cose non tornano nel senso che bisogna semplicemente ripensarci su ridiscuterne e rimettere continuamente a fuoco oggi mi pare di poter dire che abbiamo a disposizione dobbiamo usare dei modelli un pochino più sofisticati io non riscriverei le itali e bizantine oggi userei dei modelli interpretativi interpretativi modelli interpretativi un pochino più sofisticati in cui la distinzione non sarebbe più così netta fra chi sta al di qua e chi sta al di là ma chiamerebbe in gioco una serie di altri problemi perché nel frattempo sono successe delle cose è cambiato il mondo dal punto di vista archeologico e ragazzi negli ultimi 15 anni il mondo è cambiato perché abbiamo scavato X anche X per 100 X per 900 capanne alto medievali in Italia sedentrionale e nel barbarico e abbiamo scavato X città dall'altra parte del Mediterraneo e Franco purtroppo se n'è andato quel libro di Holden e Parcel che lui citava The Corrupting Sea che lui dice aveva citato uno dei libri più brutti che ha letto nella sua vita io lo trovo uno dei libri più belli che ho letto nella mia vita perché perché ho questo è il bello punto di vista perché ho il mio punto di vista è un punto di vista in questo momento che sta seduto in mezzo al Mediterraneo e che vede il mondo cambiare in maniera diversa da quanto ce lo siamo immaginato con delle dinamiche che sono diverse io nel 96 98 parlavo di una dinamica essenzialmente politico economica continuo a pensare sia vera sia uno degli indicatori possibili e penso che oggi ci siano per esempio delle dinamiche di lunghissimo periodo che vanno prese in considerazione che io colpevolmente nel 96 98 non ho per niente preso in considerazione per esempio penso che le città vivano e muoiano indipendentemente dal fatto di essere inserite o non inserite in un sistema statale le città vivono e muoiono in maniera differenziale per loro motivi interni sono giochi complicati insomma su cui bisogna credo riflettere sono assolutamente d'accordo e volevo infatti intervenire sul concetto di città perché non c'è un automatismo almeno nell'Europa occidentale fra una profonda articolazione della struttura sociale e una città ci sono città che si sviluppano come tali senza avere almeno nelle prime fasi una struttura sociale particolarmente raffinata o paragonabile a quella orientale faccio l'esempio per arrivare alle città della Lega Anseatica in tutta l'area del Baltico dobbiamo aspettare il XII secolo però ciò non significa che prima non ci sono città e che non c'è un'economia di scambi e addirittura anche un'economia monetaria quindi anche questo forse è un altro degli elementi di distinzione fra est e ovest che va tenuto in considerazione nessuno dubita che se è morto Hedeby e al suo posto è nato Schleswig che poi attualmente anche la capitale è di una regione tedesca e comunque diciamo in quella zona era e qui si introduce l'aspetto ecologico geografico era fisiologico che ci fosse una città che si dedicasse agli scambi io ora ho proposto di recente lo pubblico fa breve il motivo per cui queste due toscane sono sono differenti è secondo me un motivo geografico che da una parte c'è un'autostrada chiamata Arno con un grande bacino agricolo che può sostentare grandi popolazioni accentrate dall'altra parte ha i piccoli fiumi poco navigabili e un paesaggio molto più variegato per cui si possono creare dei microcosmi che difficilmente riescono ad estendersi per arrivare ad avere quello che oggi si chiama il site catchment perché l'americano va di moda ma comunque sarebbe il Lebensraum alla fine necessario e sufficiente a sopravvivere l'ultima analisi che ho fatto sul Grosseto nel XIII secolo Grosseto non si è sviluppata da piccola città di 4.000 abitanti a una grande città perché il suo territorio giuridicamente dipendente alla fine del 200 quando poi arriva a Siena non poteva sostenere al massimo più di 8.000 persone se tutto fosse andato bene se tutto fosse stato coltivato e ogni anno fosse andato il buon raccolto quindi credo che quando si va a costruire questi modelli si debba rompere almeno in Italia questa dipendenza dalla filologia e cioè credo che ci si debba muovere su un versante in cui l'archeologia si misura con l'ecologia e la geografia sono assolutamente convinto che sono assolutamente convinto però che si debbano ancorare a delle analisi cioè analisi con dati numerici io sono anche per recuperare il valore del numero perché altrimenti ci muoviamo su sommere opinioni voi pensate io stia scherzando ma peserà mi sembra strano ma secondo me non abbiamo detto cose tanto diverse tutti e tre sulla sul modo di procedere io comunque è chiaro che non lo intercettiamo mai tutta la realtà ma una parte o perlomeno quella che noi interpretiamo di realtà però mettendo a fuoco quelle che sono le mie interpretazioni quelle che secondo noi sono alcune linee di una situazione passata di modelli forse vissuti in atto in movimento nel passato io io già stabilisco i termini di confronto per ragionare poco di ricerche i sassini del stagno di cui parlava Franco molto all'inizio nella sua bellissima introduzione è chiaro che poi nel tempo le mie idee le idee di un ricercatore cambiano chi non cambia idea chi non smonta i suoi modelli le rimonta o le cambia completamente è un merito fesso è uno che non dovrebbe essere più pagato per fare ricerca detto fuori da denti perché più aumentano gli elementi a disposizione per esempio io ho dichiarato l'ultima settimana fa ho cambiato completamente idea sull'origine delle villaggi altomellevare di Toscana con molte più variabili ma ho cambiato completamente idea proprio all'antitesi di quello che pensavo prima e non ho paura a scriverlo anzi ho già cominciato a scriverlo lo scriverò ancora molto più estesamente ma la ricerca è così si spinge fino a un certo punto le proprie idee le proprie modellizzazioni poi arrivi a un punto limite o alcune cose ti convincono quelli le tieni o ti convince tutto raramente perché i dati le suggestioni dall'esterno arrivano sempre di più bisogna seguire non solo il dibattito ma anche i dati nudi e crudi prodotti e questo lo reputo fondamentale cioè le fonti le nostre fonti dopo maneggiarle tanto dopodiché è chiaro che un modello lo spinge fino a un certo limite poi oltre quello non va ti accorgi a quel punto i difetti che può avere cosa non torna cosa hai voluto mettere di tua convinzione a priori o meno perché tanto la soggettività e la propria sensibilità è ciò che caratterizza tutte le interpretazioni che noi diamo su questo non c'è non c'è niente da fare ma secondo me senza fare modelli come quello che ha fatto nel 97 per l'Italia bizantine nel 98 non mi ricordo senza modelli io posso aver fatto per la Toscana rurale nella lunga di Aronia senza modelli e Carlo ha fatto per questo sviluppo o regresso delle città in Toscana il dibattito non andrebbe in questa direzione non c'è niente da fare sarebbe un dibattito fermo cioè ognuno si direbbe le sue cose non si confronterebbero i termini di confronto esisterebbero sempre i momenti di confronto esisterebbero sempre meno tutto qua secondo me questo è il lavoro nostro poi è chiaro a me piace rifaccio lo storico però allora qui in avanti dirò mi piace pensare che provo a fare lo storico però i modelli vanno costruiti e poi vanno confrontati anzi il modello che è un po' una semplificazione di tutta la realtà che noi andiamo a vedere è il mio modo per confrontarmi con te io i grandi scontri che ho avuto in passato li ho avuti con il mio migliore amico Gian Piero Brogiolo però sono scontri che a tutti e due sono serviti nel tempo prima di tutto e diventare amici poi nel tempo arrivare a interpretazioni più condivise dove ognuno ha riconosciuto ad esempio il buono che c'era quello dell'altro o meno ma la ricerca è questa io concludo no ma faccio concludere mi sono portato le conclusioni però le ho copiate e proprio in questi giorni deve essere uscito però l'ho visto in biblioteca perché io credo molto alla casualità sono andato in biblioteca come al solito e tra le novità arrivate c'era il volume le trasformazioni del quinto secolo l'Italia i barbari e l'occidente romano atti di Poggi Bonzi del 2007 faccio notare che Marco Valenti non è tra i curatori ma non ha sentito il bisogno di regalarmi una copia va bene ma questo io non ce l'ho sono un contributore l'ho dovuta richiedere e ancora non me l'hanno mandata va bene la chiederò per recensione e saprò cosa scrivere nella recensione io recensisco su riviste importanti va bene allora il direttore della linea editoriali del seminario Poggi Bonzi è Stefano Gaspar la cosa mi aveva colpito intanto per la casualità dico guarda andiamo a fare un seminario sul sesto secolo sull'Italia del sesto secolo arrivo in biblioteca c'è un seminario sull'Italia del quinto secolo mi sembra interessante molto molto ma è curioso poi l'Italia i barbari l'occidente romano questo mi pareva molto divertente perché noi ci avevamo messo l'Italia il barbarico e l'oriente e in questo ci avevamo messo solamente l'occidente ma era quel seminario che ricordo molto bene con grande interesse di Poggi Bonzi poi è arrivato in un momento molto complicato per tutti e quindi ha avuto anche una sua dinamica quel seminario lo sappiamo tutti la cosa interessante vedevo due cose una la dimensione di quel volume che era molto corposa e che mi faceva pensare e poi mentre pensavo anche all'organizzazione di questi seminari che proprio in questi giorni poi avevamo organizzato con Marco e gli altri amici mi faceva pensare a dei prodotti editoriali che adesso vanno molto di moda che sono i cosiddetti companions la pubblicistica anglosassone in questo momento è ricchissima di queste cose cioè sono dei volumoni alti così non so se voi avete mai visto l'edizione inglese del libro di Chris Wickham che è un volume di questa fatta cioè ormai ci sono la realtà è così complessa la nostra conoscenza del passato è così complessa che richiede queste dimensioni io un giorno scherzavo con Chris che avevo incontrato anche quella volta in biblioteca e gli dicevo guarda io ho spesso per le mani il tuo libro anzi ce l'ho anche tarocco ah c'hai registrato vabbè ormai è andata poi la taglia ce l'ho anche tarocco in formato elettronico e lui mi aveva detto per la verità sai che adesso il nuovo metro di valutazione dei libri della qualità dei libri non è quanti ne vendi ma quanti ti taroccano perché più ti taroccano e più il libro è buono e dicevo però obiettivamente mi capita di pensare questa cosa cioè che quando tu scrivi una pagina sono pagine estremamente dense io quando leggo una pagina di quel libro di Chris Wickham capisco più o meno tutto cioè capisco i riferimenti che lui fa alla miriade di fonti che lui usa e mi rendo conto che è una persona più giovane che ha meno esperienza ha avuto o che ha a disposizione una biblioteca meno fornita di quella che ho a disposizione io può fare un'enorme fatica la traduzione di queste cose sono i companions i companions sono proprio lo strumento che dicono ragazzi la conoscenza del passato è diventata così complicata che vi diamo una specie di breviario per capire come funziona da questo punto di vista pensavo che questa iniziativa di eh sì ma se tratta di roba così capito non bignami si tratta di roba che provano un po' come l'enciclopedia dell'arte sì no certo insomma diciamo una cosa che cerca di spiegare lo stato dell'arte con bibliografie molto complesse eccetera questa cosa in Italia non c'è e devo dire si traducono non li vedo tradotti mentre mi parrebbe molto interessante farli questi seminari potrebbero essere della sorta di companions cioè potrebbero essere una cosa organizzata così in cui delle persone che hanno un pochino più di esperienza anzi un po' molta più esperienza si mettono si chiacchierano in maniera abbastanza molto informale e aiutano dando delle chiavi di lettura alle persone più giovani comunque in fondo a questo volume c'erano il volume aveva una introduzione di Paolo De Logu e ben due conclusioni non a caso una di Chris Wickham e l'altra di Walter Paul cioè diciamo di uno storico che parla molto con gli archeologi è uno storico che parla diciamo abbastanza con gli archeologi molto degli archeologi mi sono appuntato le conclusioni perché mi sembravano carine dice Chris Wickham ve lo traduco al volo quindi sarà un po' lento cosa è esattamente il quinto secolo è difficile dire piuttosto è un periodo non il solo questo è ugualmente vero per il sesto quello di cui stiamo parlando e casi ci sono dei casi di studio anche per periodi precedenti o anche successivi in cui i punti di vista differenti e le educazioni cioè il pregresso gli studi pregressi degli esperti dei due lati dello schieramento in questo caso lui sta parlando di medievisti di classicisti hanno un terreno comune in cui loro possono portare appunto i loro punti di vista che vengono dalle loro esperienze e dalle proprie metanarrative cioè dalle elaborazioni del passato che loro si sono fatti che può essere anzi dovrebbe essere potrebbe avere un effetto sulle interpretazioni cioè questi questi portati che lo si portano possono avere un effetto sulle interpretazioni dei loro interlocutori dell'altra parte di questi confini disciplinari l'immagine del V secolo come un territorio comune non contestato cioè non oggetto di contestazione ma un territorio comune di incontro in cui uno ci si può in cui appunto ci si possono incontrare prospettive di ricerca diverse è uno degli aspetti più importanti di questo libro Walter Paul andrò più veloce perché è scritto in italiano direttamente dice la realtà del V secolo ma secondo me vale tranquillamente per il VI la realtà del VI secolo mettiamolo così è complessa e contraddittoria se la guardiamo nello specchio lontano possiamo sempre vedere anche noi stessi con tutti i nostri interessi e con tutte le nostre preoccupazioni osserviamo una trasformazione storica che ormai da più di 200 anni è servita il V secolo la caduta dell'impero romano che da ormai più di 200 anni è servita da paragone e da modello per molti mutamenti storici ad esempio per la fine di imperi di culture e di migrazioni l'origine delle nazioni non è il nostro compito come storici ridurre la complessità per giungere a soluzioni semplici ma questo non vuol dire che dobbiamo rinunciare alle interpretazioni e alle spiegazioni la grande sfida è di ricostruire e di comprendere una trasformazione del passato in tutta la sua complessità così possiamo anche imparare dalla trasformazione del mondo romano qualcosa di più in generale sul funzionamento sulle contraddizioni e sui mutamenti di società complesse questo era Walter Paul ma devo dire che io ci metterei quattro firme ma Walter Paul è più bravo di me obiettivamente volevo dire una cosa per chi reggerà il 24 giugno in questa aula c'è una giornata sulle chiese di legno organizzata da noi dove noi mettiamo in confronto con chi le ha scavate l'associazione delle chiese di legno di Miranduolo sarà l'ultimo capitolo prima dell'estate di un incontro bene vi ringraziamo a tutti per la presenza alla prossima grazie